Se riscontri il problema, l'errore riguardo al 0x87DD002A che l'Xbox GameUp sul tuo computer non funziona e giochi non funzionano sull'applicazione, quindi è possibile risolvere il problema andando sul tuo profilo qua sopra, vai sul supporto, usa così gli strumenti di Xbox Super, strumento di ripristino, quindi facciamo avvia, ripristino e facciamo sì. In descrizione ti ho lasciato così la pagina di supporto della Xbox, quindi stiamo facendo gli aggiornamenti e i metodi che ci stanno consigliando, che è quello che sto facendo adesso. Farà così un ripristino sul GameBar, un ripristino su tutte le altre impostazioni e servizi di Xbox. Quindi se invece non dovesse funzionare possiamo andare semplicemente su versione scaricabile. Scendi fino a giù fino a trovare Download Gaming Service, ci clicchiamo qua e lo scarichiamo. Scarichiamo così il supporto per Xbox, se il tuo PC non ha questo servizio è probabile che ti escono sempre questi errori, quindi farà l'aggiornamento di Xbox App, Xbox Identity Provider, GameBar, Gaming Service, ripetere le azioni. Il problema è stato risolto, facciamo N, facciamo N, facciamo N, aiutaci a migliorare inviando un feedback e faccio invio. E poi chiedere assistenza e mandare un feedback proprio al supporto e farti anche aiutare da loro. Se non dovesse funzionare possiamo andare direttamente, qui possiamo anche chiudere, possiamo andare direttamente su installazioni, installazione, applicazioni. Scrivi qua sopra Xbox ed eccolo qua, tre puntini, opzioni avanzate. E questa è anche la parte più importante, tipo interrompi il servizio. Quindi chiudiamo un attimo Xbox GameBar, chiudiamo qua e facciamo interrompi. Interrompi tutti i servizi in gestione e attività che stanno qua sopra, gestione e attività. Quindi se Xbox è aperto qua dentro e non funziona tu devi interrompere il servizio. Reimposta Xbox, fai la stessa cosa anche qua sopra. Oppure disinstalla e reinstalla Xbox su Microsoft Store. Scarica e installa di nuovo Xbox su Microsoft Store e fai di nuovo l'accesso. E chiudiamo qua. Se non dovesse funzionare possiamo andare semplicemente sul comando che ti ho lasciato in descrizione ed eccolo qua. Vai a copiare così questo comando, fai copia. Scrivi qua sopra PowerShell. PowerShell, Windows PowerShell, tasto destro sopra e segui come amministratore. Facciamo CTRL V, facciamo invio. Ci aprirà Microsoft Store, facendoci scaricare il servizio di gioco, il componente aggiuntivo per Xbox e lo installiamo. Download in corso, lo installa. Una volta fatto, avviamo questo servizio, lo dobbiamo solamente avviare. Una volta installato, dobbiamo aprire di nuovo Xbox. Lo facciamo fatto, lo farò dopo. Tutto questo, amixbox funziona. Se non dovesse bastare, vai direttamente su esegui. Scrivi qua sopra %updata% e fai ok. Vai su app, appdata local. Se c'è la cartella Xbox qua dentro, tu cancella quella cartella. Oppure la puoi trovare direttamente nella cartella di Microsoft, quindi la troverai direttamente nella cartella Microsoft e se c'è Xbox, ed eccola qua, Xbox Live, tu cancella la cartella. Oppure se c'è Xbox Game Bar o altre applicazioni, tu cancella quella cartella con l'applicazione chiusa. Quindi ogni volta che hai questi problemi, riprova sempre con questi metodi. Se hai problemi, commenta sotto al video. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.